Infastidito dal fumo della griglia, spara e uccide il vicino di casa, è successo a Milano, nelle palazzine Aller di Via Ovada 3, zona Barona, dove un uomo di 72 anni, Rocco Sallicandro, pensionato incensurato di origine calabresi, ha esploso due colpi di pistola contro il vicino Francesco Spadone, di 34 anni, che è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Paolo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il motivo della lite sarebbe stato il barbecue organizzato in cortile dalla vittima con alcuni amici. Il 72enne, infastidito da fumo e schiamazzi, sarebbe così sceso dalle scale del suo appartamento fino al cortile, dove stavano facendo il barbecue e con una pistola calibro 9 avrebbe sparato due colpi in aria. Subito il gruppo di giovani, insieme alla vittima, si avventano contro l'uomo per cercare di disarmarlo, ma è allora che il 72enne, probabilmente da terra, fa esplodere almeno altri due colpi, ferendo fatalmente il 34enne all'addome. Accortisi solo in un secondo momento della gravità dell'amico, il gruppo continua ad avventarsi contro il pensionato, che viene preso a pugni i calci e pestato violentemente, tanto che è stato trasportato in codice giallo all'Humanitas di Rozzano, dove ora si trova piantonato in stato di arresto per omicidio, dopo aver confessato con poche parole «sì, sono stato io». Secondo i vicini, il 72enne che viveva al quarto piano della palazzina Haller aveva problemi psichici ed era un accumulatore seriale, anche se non aveva alcun precedente giudiziario. La vittima, invece, era già nota alle forze dell'ordine l'ultimo episodio a giugno, quando aveva aggredito un tunisino. L'uomo viveva nella stessa scala del 72enne, però al primo piano con i suoi tre figli e lavorava di notte al mercato del pesce. Grazie. Grazie.